Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su aga.io per smartphone. Perché lo faccio su smartphone? Perché non mi lagga tantissimo e quindi lo faccio su smartphone. E quindi si inizia ragazze. Intanto usiamo il nostro nickname. Che il nostro nickname è Xperveno Gamer. Ve l'avevo promesso quindi l'ho portato anche un po' in ritardo. Quindi sì, è colpa mia. E sì. Stiamo mangiando le panelline, speriamo. Io sono già... ho fatto un po' di pratica in questo gioco, no? Lo faccio più su smartphone che non è che mi lagga tantissimo. Sul computer un pochino mi lagga. Quindi... Cazzo. Ecco. Quindi. Speriamo che vada bene. Questo non me lo mangio. Andiamo. Dai, hashtag. Vieni qua, hashtag. No, ma no. Bizantium. Vada, ti prego. Mangia le palline. Mangia le palline. Mangia le palline. No, no. Non sto ancora mangiando nessuno. Perché... All'inizio va mangiate quelle piccoline. Tipo queste qui. Oddio, uno si è... Irz. Si è splittato e ho paura. Andiamo se la prima... Moriamo su... Ecco, big. Big no, big no. Forse Irz. Un pezzo di Irz. Non me lo mangio. Super cosa? Ah, poi in alto a destra c'è... D'oggi, no. In alto a destra c'è il nostro... Siamo quarantatresi. No, no. Ecco. Dai, venti di scuro. Team, no. Sì, all'inizio puoi fare team, poi dopo... C'è qualcuno che ti frega anche, quindi... Questo qui è cinese. Perfetto. Allora. Stussi, 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 stussi. Sono tutti giganti. Non va bene, cazzo. Vieni qua, agarputto io, beh, no. Obama, devo mangiare. Obama, devo mangiare. Time di merda, volevo mangiare. Questo cinesimo... No, la terra no. La terra no. Che casino c'è qua? Che casino c'è? Che casino c'è? Sono 600. In due secondi ho fatto una... Sì, però sono circondato. Ragazzi, ragazzi, no. Usciamo dai coglioni. In due secondi da 100 scorri lì. Siamo andati a un casino di scorri. Italy me lo mangio io! Sono sesto, ragazzi. Però è meglio di levarsi dal coglione. Perché non vuoi. Poi se si rimette insieme mi fa il culo. Cazzo, in due secondi ho fatto 2000. In là. Questo qua non... No! Ok, ragazzi, siamo ufficialmente morti. Perfetto. All'inizio non ci capivo nulla. Io, tipo, così... Ero andato lì, era un casino detto. Tanto ci muoio. Invece no, non ci sono morto. Poi sono morto dopo. Coglione. Quindi, se... GS... No, non lo mangio. Non lo mangio. Ehi, ehi, ehi. Non dico, GS di merda, no. Mai, mai. Mangiato, GS. Bene. Allora. Giumbo, no. Giumbo... Mmm, giumbo del cazzo. Ah... Ok. Allora. Mangia... Le palline... Queste. Cioè, il primo episodio è già così a bo... Ma por... Parlo. Non lo so, c'ho anche la gola che fa... Ecco, ora non più. Ci sono tanti giocatori, tipo, circa 90. Quindi, Dodge, mi sa che siamo uguali. Va bene. C'è Obama. C'è tutti. Ma guarda come muoio, porco di... Possibile. Ci credo, mai. Cazzo. Allora. Dai, dai. Recupero. Dai, dai, dai. Sennò, ragazzi, mi è venuta un'idea. Farò, tipo... Una volta su smartphone e una volta su pc. Così per variare o sennò è uguale. Decidete voi nei commenti. E va bene. E vai, vai. Mangio dei polli... No, no, sì. No. Ci sono circondati da quelli grandi. Benissimo. Quanti grandi ci sono qua? No, no, sono all'ange. Porco. Ecco. Ok, dai. Ci riproviamo per un'altra volta. Proviamo a fare una cosa decente. No, facciamo la cosa decente. Che culo anche, perché ho trovato uno. Questo qua lo potrei anche mangiare dei pezzi, ma se si riunisce mi fa il culo. Quindi... Direi tipo farne una no ad oggi. Lasciami un bravo. Non so se lo man... No. Vip, vieni qua. Vip, non lo mangiare. Ma allora sei un coglione. Splitto! E ho fatto una cazzata. Pensavo che lo man... No. Origin di me. Ok, sono 300 però. Quindi una cosa buona si fa sempre. Dai, mangia, mangia, mangia. No, ancora Origin Team. No. No. Perché noi non si fa Team. No, Origin. Soldi. I soldi pro mi piace. No, quello blu. No. Non so come si chiama. Sì, ma ho paura quello verde, ragazzi. Quello verde sopra di noi. Se muoio ora, muoio e chiudo il video perché non... Se lo metto... C'è un angolino. Se c'è un angolino qua, no. Se mangia qualcosa, cacchio. Perché potrebbe farci il culo. E quindi... No. Non lo puoi mangiare. No, quello verde. Quello verde lo sapevo. Tanto lo sapevo che si splittava. Tanto lo sapevo. Va bene, ragazzi. Per questo video di Agar.io. Finisce qua. Mi sono incazzato leggermente. Vabbè. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete 20 like per il prossimo episodio. E seguitemi su... Ah, non vi ho detto. Una cosa. Che mi sono... Is... Iscritto anche a Ask. Quindi. Se mi volete fare delle domande. O... Sì. Delle domande. Me le potete fare su Ask. O se no... Con me su YouTube. Qui sotto nella descrizione. Sotto nei commenti. O se su Facebook. O su Instagram. Link in descrizione. E quindi. Noi ci vediamo. Al prossimo video. O... 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 Grazie a tutti.